Siamo con Francesco De Vivo, all'EPT di Berlino, niente bis dopo Copenaghen? No, no, eravamo abbastanza vicini ai premi, però sono arrivati per me, è stata una giornata dove veramente ho visto il zero assoluto, infatti ero corso, l'unica maniera decente che ho visto è questa, il soggetto è trovato il suo dono. Vuoi raccontare? Stavi raccontando prima che hai sfiorato anche... Sì, perché poi alla fine comunque sono riuscito a entrare in quattro quinti a Tana, quindi un pochino più di fortuna magari riesco a prendere questo piatto, non è andata, però comunque ci sta, voglio dire, per me oggi non è stata sicuramente una giornata positiva. Prossimo appuntamento? Prossimo appuntamento sicuramente non lo faccio. Ok, ti ringrazio Francesco.